Dopo il successo che lo ha visto impegnato nei mesi scorsi, Antonello Venditti arriva in Versilia, nella splendida cornice di Villa Bertelli, il prossimo 12 agosto con il suo Tortuga in Paradiso, uno spettacolo costruito intorno alla sua storia e al suo successo, in cui il cantautore romano ripercorrerà l'intera carriera, dai brani dell'ultimo album Tortuga fino ai grandi, grandissimi successi del folk studio. Nel live infatti troveranno spazio da un lato i vecchi successi intramontabili di Antonello, ormai grandi classici della musica italiana e dall'altro i nuovi singoli di Tortuga. Il tutto per un appuntamento imperdibile venerdì 12 agosto 2016 per estate a Villa Bertelli a Forte dei Marmi.